Niente stato di emergenza, le richieste di Emilia Romagna, Toscana e Umbria non sono state raccolte dal governo Conte. Per Palazzo Chigi quello che è successo a metà gennaio è stato solo un incidente di percorso che con il tempo si riappianerà. La necessità dello stato di emergenza per attivare i rimborsi alle imprese che direttamente e indirettamente avevano subito i danni dalla chiusura del tratto di strada che collega la Romagna alla Toscana, ovvero tra Canigli e Val Savignone, è stata declassificata. I problemi dovranno essere risolti in via ordinaria. Una doccia fredda, anzi gelata, che mette in croce quelle attività che sull'asse dell'E45 avevano sviluppato la loro attività, la loro azione e la loro storia. Dunque finora sono state solo le regioni che hanno preso di petto la situazione. Per il resto solo tante chiacchiere alla luce degli incontri romani che non hanno portato a nulla. Grande delusione tra i sindaci interessati anche se in maniera amara. Albano Bragagni, sindaco di Pieve Santo Stefano, era stato tra quelli meno speranzosi da subito. Non ci hanno dato nemmeno un caffè, è stato il suo laconico commento. Speriamo che riaprano la strada al traffico pesante prima possibile e che la vecchia trebisse torni in piena attività.